I timori legati alle elezioni in Grecia, la decisione della Banca Nazionale Svizzera di disancorare il franco all'euro, l'attesa per il lancio delle nuove misure di allentamento monetario della Banca Centrale Europea, come sempre nei momenti storici di grande volatilità sui mercati finanziari, è il caro vecchio scintillante oro a portare a casa i maggiori rialzi. Il più classico dei beni rifugio, nonostante alcune prese di beneficio questo lunedì, scambia sui massimi da quattro mesi, sopra i 1.270 dollari l'oncia, e secondo alcuni analisti non è da escludere che si arrivi presto a quota 1.300 dollari.